Sam ha deciso di far visita a una vecchia conoscenza che potrebbe sapere cosa stanno cercando i Decepticum. Porta il ragazzo a destinazione e proteggilo da ogni pericolo. Breakaway in attesa. Ambiente sicuro. Prendi il ragazzo e procedi verso la zona d'atterraggio. Finito in avvicinamento. Ci sarà qualche ritardo. Breakaway in attesa. Venito a giocato. Decepticum, aprire il fuoco. Apre il fuoco, Super Caccia. Continua la mangiata. Apre il fuoco. Il fuoco è confermata. Ottimo lavoro. Ehi! Quaggiù! Quando sei pronto! Autobot, vi ordino di attaccare. Ricordi l'agente Simmons della Section 6? Ora lavora nel negozio della madre. Già, un grosso passo indietro. Ma forse lui sa cosa vogliono da me i Decepticum. Perciò devo incontrarlo. Ecco, ecco il negozio. Lasciami davanti all'entrata. Resta qui. Devo fare qualche domanda a Simmons. Tornerò il prima possibile. Attenzione Autobot, nemici in avvicinamento. Sei subcontato. Deserticon attaccati. Apre il fuoco, Super Caccia. Attenzione Autobot, stai super inutanti. Torpo alla testa. Attaccate il Decepticon. Stai super inutanti. 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 Non possiamo lasciare il ragazzo da solo. Distruggete il bersaglio. Attento Autobot, stai subendo da... Autobot, all'attacco! Concentrate il fuoco sui Decepticons! Tutto qui. Armi pronte! Il ragazzo è tornato fuori. Torna al punto di rilascio. Aprire il fuoco! Ehi, fai presto. Dobbiamo raggiungere il museo aerospaziale. Ok, il piano è questo. Devo trovare un vecchio robot chiamato Jetfire. È vecchio come il mondo e sa tutto sui Decepticons. Simmons dice che lui potrebbe spiegare tutto. Andiamo a cercare. D'accordo? Il museo è vicino. Autobot controlla le nuove coordinate sul radar. Ci siamo, ci siamo! Mettimi giù! Grazie per il passaggio. Se trovo Jetfire ti faccio un fischio. Ma non far entrare nessun altro. Abbiamo compagnia. Prepararsi al contatto. Autobot, all'attacco! L'attacco! A presto! L'attacco! All'attacco! L'attacco! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccellente! Colpo alla testa! Hai scelto la parte sbagliata. Desepticon! Nemico Desepticon nel mirino, pronto ad attaccare! Colpo alla testa! Solo fumo e niente arrosto? No! 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 No!